Fratelli e raddure, amici di Facebook e Instagram, buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon sabato 3 febbraio, vigilia, siamo alla vigilia di Inter Juve e insomma un po' di veleno buttiamolo, qua ogni anno o all'andato o al ritorno c'è un ex arbitro che deve sempre dire la sua e ancora è tornato a parlare, questo ha 70 anni e ancora parla di quella partita e ragazzi i pazzi bisogna secondarli, i matti dopo un po' bisogna secondarli, va bene hai ragione, era fallo di Ronaldo, Giuliano era fermo, è lui che gli va addosso, bisogna secondarli i pazzi dopo un po' perché puntualmente ogni anno, fateci caso, ormai sono anni, o prima di uno o prima dell'andato o prima del ritorno questo torna a parlare e deve dire la sua, il grande arbitro Ceccarini, quindi questa è una cosa che veramente, fateci caso, è sempre così, c'è sempre i cappelli più bianchi, rompe sempre di più il cazzo, quindi va bene, va bene Melo, va bene, va bene Melo, va bene, va fa in tuo culo va, questo è uno, poi ci si mette, poi ci si mette quella stupenda testata giornalistica, cioè quelli che ci hanno definito i campioni d'inverno, no, quelli che troppe ne hanno scritte, prima del big match mettono un bel titolone, se rimane Zhang l'Inter è costretta a cedere almeno due big, cioè lo scrivono loro, lo scrivono proprio loro che l'estate scorsa hanno fatto di tutto per vendere Vlaovic, quello che adesso osannano, che segna, grande Vlaovic, lo volevano vendere a tutti i costi e non hanno potuto fare mercato perché non hanno venduto Vlaovic, è arrivato solo UEA e questi vengono a fare le pulce a noi, fatemi capire come funziona, mi sembra che il Milan abbia venduto tonali 70 zucche, ma non è un big, non era capitano futuro tonali, di che cazzo stiamo parlando? Cioè questi parlano di noi, poi ripeto anche prendendo il video di ieri, gli intertristi che hanno preso Alcatraz, quello è Alcatraz, hanno preso Alcatraz, e chi cazzo hanno preso l'estate scorsa? No, perché tutti quelli che piangevano l'estate scorsa, via Brozovic, via Onana, via Alex 90, via Alex 37, dove dobbiamo andare? Mi sembra che chi è arrivato li ha rimpiazzati non alla grande di più, che l'Inter abbia fatto un gran mercato in estate, sia prima che l'Inter abbia raggiunto già determinati obiettivi è un trofeo, chi è che si doveva rinforzare di più, con quelli che i due centrocampisti li avevano persi a inizio campionato, fenomeni, intertristi che piangete perché guardate quelli, io veramente non ho parole, abbiamo preso un Pavard che vale 10 ex 37, abbiamo un Turam che vale 8 ex 90, eh ma quello fa più gol, sì ma questo fa giocare meglio la squadra, fa giocare meglio tutti, fa gol, assist e rigore i procurati, ma di che cazzo stiamo parlando? hai preso frattesi a centrocampo, perché il sostituto di Brozovi ce l'avevi già in casa, era Ciaranoglu, Pavard, per non parlare di Zommer, Zommer, hai ceduto Onana, hai fatto una plusvalenza della Madonna, un grande Onana perché qui lo si difenderà sempre, ma non mi sembra che siamo caduti abbastanza in piedi, 6 milioni incomoderate, 18 clean sheet, tristoni, quelli che rompevano il cazzo inizio estate, sono quelli che adesso si demoralizzano, ma di cosa? ma di che cazzo vi demoralizzate? Che questi non hanno comprato, hanno preso tre giocatori in due sessioni? Noi abbiamo rifatto una squadra praticamente, quindi solito giornale che deve rompere il cazzo, no? E poi capirà gli zang out che prendono sta roba, ah non cambia un cazzo! Ogni anno diamo via ai giocatori e ogni anno siamo competitivi, quindi mi fido di questa dirigenza. Eh ma noi prendiamo i parametri, ma cazzo, ma prendili quei parametri zero, arrivaci a prenderli. O è più furbo chi spende tanto? Non lo so. Quindi, rutto sporco da una parte, l'arbitro ceccarini dall'altra, poi vabbè sul tubo, sul tubo c'è questo fenomeno, no? Viscidicchio. Ogni tanto devo dire la mia su questo personaggio, a parte che è cintura nera di capelli, cioè lui è proprio cintura nera di, 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 di hardstyle. Infatti ho visto, solo il titolo ho visto perché mi è comparso, contro la fallitese partiamo da 4 a 0 per noi, perché lui si crede. A me fa ridere sta cosa, perché se noi siamo la fallitese, cioè loro che cazzo dovrebbero essere? Cioè gli dobbiamo elencare tutti? Calciopolese, la laureatese, il diploma, cos'è? La laurea, lì, a Perugia. Poi c'è il bilancio attese, il bilancio, la stipendiese, la patteggese. Quante cazzo ne dobbiamo dire? Cioè, e questo qua continuo a parlare come altri, no? Che si sono ossessionati, ma prima o poi qualcuno se ne accorgerà e arriveranno delle belle querele per certa gente. Quindi questo è il clima, questo è l'ambiente, da una parte, da una parte, perché dall'altra non sento parlare. Ci si è messo anche il grande bremer, addirittura. Ho fatto la scelta di che cazzo dici che avevi messo la cosa dell'intra, avevi messo brutto pagliaccio, ma almeno non parlare, almeno non dire quelle cose così, perché le hanno viste tutte le cose che hai postato, che eri praticamente dell'Inter, fenomeno. E quelli hanno dovuto, ecco, lì non hanno venduto De Litt per prendere Bremer, De Litt, 80 milioni De Litt, non hanno venduto per prendere Bremer a 50? Di che cazzo stiamo parlando? Quindi, questa è la situazione, come sempre a buttar merda, e poi ci si mettono gli Inter tristi anche, hai capito? Sti fenomeni, però poi esultano che siamo primi, che abbiamo vinto quello, che abbiamo vinto quello. Come cazzo l'hai vinto? Ogni anno facendo così, perché tutte le squadre faranno così. Non c'è una squadra in Serie A che compra, fa, disfa, quelli hanno 800 milioni di debiti come noi, ma quelli hanno pompato i soldi, noi no. Tu pensa se non pompavano i soldi come cazzo erano ridotti? Eh? Le europese, quelli che vengono sbattuti fuori dall'Europa. Quindi, la situazione è questa, bravi noi, noi loro, perché noi tifosi comunque la nostra la diremo sempre, bravi noi a starcene tranquilli e concentrati, e domani dobbiamo fare quello, quello che sappiamo fare meglio, che è giocare a calcio. Perché questa è una squadra che gioca a calcio, che che se ne dica. Quindi, questo è l'ambiente, ho visto già, ho visto già i ragazzi della curva che stanno entrando dentro San Siro per portare dentro materiale, quindi super coreografia ragazzi, preparatevi, prepariamoci. Soprattutto preparatevi voi che trasmettete da zone, vedetevi inquadrarla la coreografia, no? Come al solito rompere i coglioni. E basta ragazzi, questo è il mio video, un po' polemico, sì, perché, cioè tu pensa a ridosso di una partita così, no? Se quella famosa testa giornale non deve parlare di zang, cioè parlano loro, parlano, ripeto. Che adesso hanno avuto il culo, eh? Che non hanno piazzato quello che adesso gli sta facendo i gol, perché è l'unico che segna. Ha fatto la metà dei gol nostri, la Juve, questo è l'unico che segna, e parlano di noi. Dovesse andare via? Eh, andrà via Barella, ne arriverà un altro. Ne ho visti andare via di giocatori in 35 anni che seguono. No, 35, anche di più ormai. Sta invecchiando il DEC. Quindi, di che cazzo stiamo parlando? Quest'anno hai dato via, l'estate scorsa, che tutti erano disperati, hai dato via tutta la spina dorsale, tutta. Portiere, ex 37, Brozovic, l'ex 90, tutta la spina dorsale. E siamo lì, con 50 gol fatti e 10 gol subiti. Fenomeni di sta minchia. Condivisione dei video, iscrivetevi al canale, sempre Forza Inter, attivate la campanella destinazione di Cicca, ragazzi, ci aggiorniamo o stasera, vediamo, ma sicuramente domani mattina per il giorno del football. Va bene? Mi raccomando, fate passaparola e vaffanculo, vaffanculo agli ossessionati e ai tristoni. Ciao!